Presidente Urbano Cairo, seguitissimo il suo intervento qui allo stabilimento Fratelli Beretta, si è aperto con una battuta, una frase, un motto, rendere difficile il facile attraverso l'inutile. Allora, ce lo spieghi anche un attimo. No, semplicemente il ragionamento era legato al fatto che è importante semplificare le cose. Quindi a volte invece ci sono delle cose facili che si rendono difficili attraverso cose inutili che non servono a nulla e che quindi rendono più difficili una cosa che sarebbe facile. Quello che conta, secondo me, nelle attività, nelle aziende, in una società di calcio, dappertutto, è cercare di semplificare al massimo. Cioè se una cosa si può fare semplicemente la si deve fare così e non si deve invece arzigogolare, complicarla, appunto rendere la difficile attraverso l'inutile. Ecco, quindi appunto anticipiamo subito un tema che è quello di un calcio più semplice. Ecco, il Toro esprime un calcio verticale, ora, efficace, che punta subito ad andare, o meglio, a creare le situazioni per andare a calciare in porta e fare gol. E questo forse è l'esempio di semplificazione nel calcio. Ma sì, diciamo che poi il Toro, anche con il calcio precedente, ha fatto comunque sia bene, abbiamo ottenuto risultati. Quindi oggi forse è un calcio più semplice, meno elaborato, dove vai, diciamo, dritto al punto, dove l'obiettivo è quello di andare a calciare, a colpire. Peraltro anche lo scorso anno tiravamo parecchio in porta. Però certamente sì, diciamo, dove cerchi, diciamo, con meno passaggi di avvicinarti di più all'area di rigore. In questo senso si può fare un parallelo, diciamo, con questo tipo di semplificazione che ho detto. Ecco, per un Toro ambizioso può valere il motto, lo slogan che lei ha citato oggi, ci si impegna e poi si vede. Ma sì, questa era la frase famosa di Napoleone, che, diciamo, quando si impegnava in grandi avventure, a volte non conosceva tutto di quello che sarebbe accaduto, però aveva delle sensazioni, poi non sempre si sono rivelate giuste, perché purtroppo per lui a un certo punto le cose sono andate male. Però, insomma, ci si impegna e poi si vede, vuol dire semplicemente la cosa, vedo che è una cosa fattibile, è una cosa interessante, è un'opportunità, mi ci butto e poi mano a mano, strada facendo, sistemo eventuali problemi che dovessero sorgere e che magari non ho previsto perché non tutto è prevedibile. Una presenza qui a Fratelli Beretta, che è anche sponsor del Toro, testimonia la sua vicinanza alle sue aziende, ai suoi sponsor, ma anche al suo grande amico. Beh, sicuramente sì, diciamo che io in questo periodo non ho purtroppo tempo perché sono totalmente assorbito dalla nuova attività in Rizzoli, che è una grande azienda con 3.500 dipendenti, un miliardo di fatturato, presenza in Spagna, in Italia, grandi giornali, dal Corriere alla Gazzetta, agli Spagnoli, Marca, al Mundo, Expansion, quindi insomma sono veramente operato di lavoro, anche perché è un'azienda completamente nuova che ho preso soltanto due mesi fa e quindi in questo momento non faccio nessun tipo di, non accetto inviti perché non ho veramente il tempo fisico, però l'invito dell'amico Vittore Beretta che è con me da 11 anni, che mi ha sempre appoggiato in maniera veramente affettuosa da fratello maggiore, a lui non potevo dire di no e quindi per lui ho trovato il tempo di venire qui e devo dire che mi ha fatto anche veramente piacere, perché ho trovato un gruppo di lavoro, i suoi manager più importanti di stabilimento, dell'azienda eccetera, un gruppo di lavoro veramente straordinario, gente seria per bene che vedi quando gli parli che tipo di reazioni positive hanno di voglia di far bene, quindi è stata una bella esperienza.